La musica klezmer ha anche dei forti, diciamo, ganci con la musica balcanica ed è per questo che presentiamo un brano che appartiene alla letteratura genere per sassofono, pianoforte, e che Cristian ha arrangiato con la fisarmonica perché è un brano di un compositore spagnolo però di origine greca, Pedro Iturrande. E scrive questa suite Lénique dove appunto si sente questa forte ispirazione della tradizione meccanica e noi eseguiremo tre tempi di questa suite, Calamatia Nossa, che sarebbe in relazione all'isola di Calamata, e poi abbiamo un waltzer di stile jazz che noi abbiamo un po' colorato di klezmer, e infine un'altra danza balcanica che è il kris. Calamata Nossa, che sarebbe in relazione all'isola di Calamata, Calamata Nossa, che sarebbe in relazione all'isola di Calamata, e dentro con la fisica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.